che donna alla polizia di stato una sua opera la scultura linea che trae ispirazioni dal libro di primo levi se questo è un uomo l'opera è intitolata in fila per la vita ritrae si ho capito ben ritrae che non l'ho visto ancora come lo confesso ritrae delle persone che sono in fila per il rancio ovviamente queste persone sono gli internati in un campo di concentramento in particolare ad auschwitz quindi in particolare ad auschwitz che sono sempre in risalto questo particolare di primo levi perché lui che mi ha dato il merito di scoprire questa opera poi c'è un altro personaggio e qui attraverso le telecamera potete vedere c'è un signore che si affaccia dalla fila perché evidentemente agli estremi per avere il rancio voi lo potete guardare ma magari fotografare la signora la signora la moglie del maestro e il figlio qui sono anche presenti la signora allora la signora mette da qui il figlio e così facciamo mai dividere moglie e marito Andrea è uno dei quattro figli che tengo tre dei quali sono informatici ha lasciato il suo lavoro per venire a onorare questa questa bella rappresentazione che ha fatto in questa ora si inaugura e si presenta oggi qui in quest'ora un'opera dello scultore Svegli ecco un'opera che riguarda una pagina triste della storia mondiale sì è un tema che ha un forte impatto emotivo è quello di rappresentare i deportati quando se non mangiavano morivano e morivano non soltanto per questo motivo ma anche per motivi per un sì o per un no e in questa opera io ho voluto rappresentarli in un momento in cui loro aspettavano con molta pazienza in fila il rancio che era per loro la vitalità se non mangiavano quelle poche brotaglie morivano come mai l'idea di realizzare un'opera in legno? io scoppisco il legno e questo questo tronco che qui vedete è un tronco di noce che poiché io ho il laboratorio presso l'istituto dei patri saveriani a Salerno da 30 anni lì c'era un albero di noce che stava per morire ma tuttavia era la dimora degli uccellini era il luogo in cui tutti i giovani quando venivano a fare i ritiri prendevano l'ombra da questo albero allora io ho voluto farlo rimettere di nuovo nella società per farlo rivivere